Salve a tutti, io sono Creeperina, detto anche Koopa, e bentornati nelle Pride Wars sui Pixel. Ed non ho rinciato qualcuno che cerca il VIP. Diciamo che l'emozione dei VIP sui server è una cosa poco poco inutile. Ed è una cosa che ho imparato a mie spese. Gli ultimi due video non so se mi erano mai visti prima di questo o meno. Diciamo che ho trovato un gruppo, che non posso mostrare perché mostrerei i nomi di chi ne fa parte e non vorrei farlo. Dove io sono invitata e diciamo che l'emozione del VIP me l'ha fatto odiare da quel gruppo. Io ci riesco sempre. Riesco sempre a farmi odiare. Questa è la cosa bella. Non è che lo faccio di proposito, però. No. 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 Sopronto, ma troppo non me la frega. Sopronto. Sopronto. Mi ha fatto tutto quando mi ha accompagnato Chica, ma questo è un altro discorso. Che prima è stata mia sorella su un altro server, e lei l'ha ottenuto il giorno dopo averle limusinato. Orca. E lei non è stata odiata? Io sì. Bene. Bella come cosa. Ma perché sei coglione? Vabbè. I primi trenta minuti di video se ne sono andati. Vinti. Ma dai. Rosso in base, porco, di quello. Sì, vabbè, tutti quanti qui. Macca mamma tu. Mi sa che la partita precedente non la vedrete mai. Taglio l'intro direttamente a quando sono stata interrotta. Ammeno le mie implicazioni, ve le risparmio. C'è ancora gente che flexa il Dream e gente che flexa Immigration Cape. O Immigrator Cape. Bella come cosa. Flexa rimangere l'immigratore è una cosa poco poco inutile. Ma cosa è bella? Sapete qual è? Quando io mi metto a fare l'Ironia su un qualcosa... Vabbè, l'Ironia non viene capita. E non esiste un chest, mannaggia. Io ti provo ad andare al summoner. Tio... Io delle mieità non li mostro tutti e 18 anni. Questo è uno dei miei poidrati difetti. ed è una cosa che mi succede sempre facendo ciò finisco sempre con fare pessime figure sì ma fare un ponte per i rossi fare un ponte per i bruno io adesso posso fare una cosa del tipo ciò e mi vado a ciolare gli smeraldi da qua sì vabbè lo vado fortino sì vabbè lo vado fortino quello che volevo fare io proviamo ad andare al secondo summoner oggi è letteralmente disoperato fino ad ora sul minecraftaggio visto che io e le mie amiche non siamo dati d'accordo sui nostri nomi di minecraft ma è nulla che parli dei fatti miei vorrei parlare delle persone che ho conosciuto in quel gruppo discord abbiamo il simpatico il cheater e il crusher il crusher e kai con cui ho giocato alcune badwars questo nobile l'ho dato perché non ho fatto che crasciare di conseguenza crasher su un server ho fatto per il primo mese di fare un'epoca in creativa io ho anche fatto la tomba del crash eterno un altro è il cheater che aveva givappato il team il gruppo che è stato chiamato tommeno gay nonostante si chiamasse in un'altra maniera ovviamente che non ha fatto altro che far arrabbiare gli altri e poi c'è il simpatico che ullali che a cui ho giocato fino a ieri ma è praticamente la cosa bella è che diciamo l'exina mi ha isticata a fare una cosa che facendo non poteva che non fare essendo l'exina isticato so diciamo che me lo sono un buon messo contro infatti non mi ha completamente considerato oggi adesso questo gruppo non ci sono segni di vita non so perchè non so perchè dato che ho due venerdì o qualcosa vabbè ho vinto senza fare niente come al solito vabbè se io non vinco senza fare niente non sono Martina ma questi li ho sponati io ma li ho sponati io quelli mi dovevo portare in un'altra partita ma che ca ma un jambuste non lo sapevo boh boh dovine che mappa è per te c'è la distanza dell'ambiente meno bassa ok dovine questa mappa qua comunque quello di cui stavo parlando lo scelto lo scelto lo scelto lo scelto lo scelto lo scelto perché la prima storia che mi ha fatto stramecaridere diciamo che io la soffiducia me la sono poco poco giocata non è che me la sono in giocata semplicemente perché ho fatto qualcosa. Mi chiedo un piccolo vizio che è quello di desiderare cose che magari non desidero. Devo avere il nome azzurro su questo server. Oppure... no, non ho l'anturo verde, volevo dire. Cosa? Ah, se la mia senpai, che non è anche il mio capo, darà a me il permesso, io sarei felice. Stavo discutendo con le mie amiche di infanzia, il fatto è che l'ho reso tutte e tre premie, io sono l'unica... ho piene per tutti i termini, loro sono tutte e tre SP, io sono l'unica premie. Questa è la cosa bella. Sì, è la seconda partita che faccio, mi sa di sì. è la bella terza che la taglio, quindi... ho andato a giocarla o meno un'altra, mi sa che stacco l'orecchio e faccio un'altra partita proprio. che hai aggivappato il farivide su YouTube? e si è preso a farli su TikTok. contento lui? c'è il letto viene guardato, è bello qualcosa. ma solo la creeper tra le alex, ma che cacchio! c'è il risultato. E' prima questa. Bene. Il mio piatto sarebbe giocato a Minecraft in Survival. Compagnia così. Oh no! Questo dico no vuol dire che non sono solo in casa. Almeno... So come tagliare i video di conseguenza. L'ho fatto come... Ale. Ah, porlo o uova? Lasciare magari le cose che devo tagliare e magari le taglio. Questa cosa l'ho vista in un video di un certo Mr. Paul Jackbar. E mi sa che questo è il tuo video che faccio adesso. Comunque... Se magari... Questo video qualcuno lo vede... E... Questo è proprio come ho stato l'ultima volta e l'ho tolto. F. Ehm... Telegram rimane tale. Ma ti scato no. Ho fatto l'armatura? No, non ho fatto l'armatura. E' bello che Alexina sia un po' arrabbiata con me. Perchè... Perchè... Per un VIP mi sono fregata da sola. Ah, Alexina, ti lo so. Io sono stupida. F per i diamanti. Sì. Vorrei farvi una spada. Ciao. Sharpness. se lo vengo interrotto adesso piccola partita ebbene come? non posso poi ridare l'armatura? uffa a parte che dopo io vorrei dare un attimo la forte ora che ci penso eh? c'è perché è entrato sui pixel la persona di cui stavo parlando prima quella che ho chiamato le simpatico così a caso va bene cosa ok voglio farmi l'armatura è assuribile in arrivo bello che non ho detto sono sui pixel questa è la cosa bella questi magari li vado a posare il prodotto che ho fatto quello prima di questo che si chiama ciao ti ricordi ancora di me l'ho dedicato a una persona è che ho perso lo stesso muro praticamente se ogni volta che io tengo un web su un server perdo un'amicizia o direttamente o indirettamente io spero che i gurla non si sentano perché non ho voglia di cancellare tutto sei sei è 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 Ho deciso prima di andare a giocare nelle Bad Wars o nelle Battle e se solo io mi metto a registrare E dimmelo quante ne servono La cosa bella è che io penso solo a me In che senso penso solo a me? Oh porca Ma gli altri diamanti dove sono finiti? Che cavolo è? Oh Io sembro una che non ci scusa mai, ma è data del contrario. Lei l'ho ancora fatto subito. Ok. Ho letteralmente reso inutile le armature di diamante così. E doiii? Cioè, trovo gente italiana e devo trovare gente che imprega. Io non ho capito quanti mi imprega, altrimenti ho pensato quanti mi imprega. Scusa, eh. Ah, sono 4,3. Se decidiamo non ti richiede questa. Ma se decidiamo di non li farò mai. Ma allora lo farò, sì. Ah! No, no, no. Eh, vabbè. Guardate, sono P, belli. Sì, ma se vi vettassi... Vabbè. Questa Wreck è finita. Beh. Diciamo che io stacco la Wreck e ne faccio un'altra. A tra poco. Passiamo a sapere. 得ata. ov scripture che trovo di acquai pol если ne faccio così. Come? So... Grazie.